Io lo definisco un patto con i giovani di Mercogliano. Ci siamo impegnati con l'amministrazione già dal lontano dicembre 2019 di portare avanti un discorso di imprenditoria giovanile che possa permettere ai nostri giovani di investire nella propria terra. Oggi c'è l'inaugurazione dello sportello, ci sono stati questi due anni un po' particolari siamo partiti a dicembre 2019, oggi realizziamo l'inaugurazione di questo sportello con l'augurio che i giovani mercogliani si rispondano perché effettivamente come dicevo all'inizio dell'intervista vogliamo veramente fare un patto con i nostri giovani attentissime alle problematiche soprattutto del lavoro per i giovani vogliamo cercare di far sì che i nostri giovani che restano a Mercogliano non vadano a trovare lavoro fuori. Ci sono tante situazioni che stiamo cercando di sbloccare purtroppo anche la criticità dei pensionamenti e di tante altre situazioni che si sono succedute nel nostro ente non hanno permesso una fluidità dei processi ma speriamo che in quest'ultima fase dell'amministrazione possiamo realizzare effettivamente quello che abbiamo previsto nel nostro programma elettorale e pertanto lasciare una Mercogliano migliore ai mercogliani, ai nostri giovani soprattutto. Quando un'amministrazione pubblica, anche qui a Mercogliano l'amministrazione comunale decide di aprire uno sportello al pubblico per promuovere l'economia sociale di mercato significa che fa una scelta di campo ben precisa perché da una parte c'è l'economia sociale che guarda la soddisfazione dei bisogni della persona umana dall'altra parte c'è l'automatismo del mercato che non fa prigionieri, che punta solo al profitto quindi bene ha fatto il sindaco, l'amministrazione e la città di Mercogliano a promuovere questa iniziativa insieme all'ente nazionale per il microcredito per non solo dare una mano a chi ha un'idea ma non ha le garanzie per attuarla ma soprattutto perché questo denota una sensibilità unica e quindi io con grande piacere oggi sono qui a sostegno di questa iniziativa con i miei collaboratori affinché questo sportello possa essere un ulteriore servizio offerto ai cittadini, ai giovani, alle donne, alle categorie più deboli e più sensibili il microcredito è un microcredito che guarda alle aziende, alle microimprese noi sappiamo che c'è una fascia di persone considerate bancabili e lì non c'è problema, uno va in banca, dà le garanzie e fa quello che deve fare ma c'è l'altra parte del mondo che è considerata non bancabile o diversamente bancabile e che a quel punto interveniamo noi, la mano pubblica interviene in collaborazione con i comuni e tanti altri enti pubblici, offre la garanzia che copre l'80% del rischio e grazie anche alle convenzioni con le nostre istituzioni finanziarie collegate possiamo portare un business plan sostenibile al finanziamento il finanziamento che attualmente può essere fino a 50 mila euro ma ci sono anche altri progetti che verranno offerti dallo sportello per i giovani, per le donne quindi con questo sportello Mercogliano si inserisce in un circuito nazionale e può offrire tutti i prodotti che la pubblica amministrazione dà Grazie